Grazie a tutti. Il libro, il pretesto, il punto di partenza di tutto ciò è, come sapete, i nuovi mostri, un paese senza intellettuali e con tutto il resto poi volendo leggete il libro se non l'avete già fatto, se vi interessa. Allora, cultura, il termine cultura. Intanto che cosa si intende per cultura? Il numero di libri letti? Beh, certo se in Italia si leggessero più libri sarebbe meglio, ma forse che i libri sono stati mai sufficienti a fare di un paese colto aiuta molto, ma forse non è sufficiente. I giornali che non si leggono, beh, vista anche la qualità discutibile della stampa e lo schieramento della stampa, non sono i giornali a fare colto un paese, al massimo contribuiscono a un'alfabetizzazione che spesso però è a rischio. La televisione, stenderei un velo pietoso. Il cinema, qualche volta sì, qualche volta meno. Il teatro, qualche volta sì, qualche volta meno. Forse quello che fa di un popolo, un popolo popolarmente colto, o se volete culturalmente vero come popolo, è appunto la cultura popolare. E cosa si intende per cultura popolare? Stando per scontato che comunque un interesse per i libri, io lo dico in quanto ne faccio, è molto interessante e quasi imprescindibile. Per cultura popolare si intende l'insieme, la tedesca, la culture, si intende l'insieme di abitudini che fanno un paese, un popolo diverso da un altro. Allora, che cosa fa degli italiani un popolo diverso dagli altri? Quali abitudini hanno? Quale cultura popolare hanno? Una volta c'era la cultura contadina, che essendo il nostro essenzialmente un paese agricolo, che dava dei segnali e delle abitudini. Adesso che cos'è l'italiano? Di che cosa parla? Qual è il suo comportamento? Quali sono i suoi valori? E chi lo sa? Chi sa davvero, a proposito di identità italiana, chi siamo? E la cultura popolare, per esempio la cultura musicale, che è la cultura popolare per certi versi più semplice, più immediata. Che cosa abbiamo di cultura musicale italiana oggi? Che cosa c'è davvero in confronto a ieri o all'altro ieri? E via così, potrei continuare, insomma ragionare sulla cultura popolare, forse qualche passetto avanti ce lo potrebbe far fare.